La banca centrale albanese ha annunciato un intervento sul mercato per l'acquisto di euro dopo che la nazionale, il LECA, ha raggiunto un inaspettato massimo contro la valuta europea, il più alto degli ultimi dieci anni. Il LECA albanese si è rafforzato dal 2016 e ha registrato forti guadagni quest'anno, soprattutto nel mese di maggio, lo ha spiegato il governatore della Banca di Albania. Il Consiglio di Vigilanza della Banca di Albania ha deciso di effettuare operazioni di acquisto di valuta estera nel mercato valutario domestico che mirerà ad eliminare l'eccedenza della valuta estera nel mercato e a detenere il consolidamento del tasso di cambio. Il rapporto tra la moneta albanese e l'euro era stabile da diversi anni a circa 140 LEC per ogni euro, ma a cavallo tra fine maggio e inizio giugno il valore dell'euro è continuato a scendere a picco. Le cause dell'improvviso rafforzamento del LEC sarebbero da imputare alle entrate in euro derivanti dal contrabbando di droga, ma le autorità statali non confermano.